Parenti e amici hanno dato l'ultimo saluto questa mattina a Francesco Ciammaichel, il quarantenne ucciso otto giorni fa nella sua abitazione che si trova nel quartiere Sant'Anna a Chieti, dove in mattinata sono arrivati i carabinieri del RIS di Roma. Proprio mentre nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Chietiscalo il parroco Don Guido Carafa celebrava i funerali, al termine dei quali la salma, custodita all'interno di una bara di legno chiaro, sopra la quale c'erano fiori bianchi, è stata portata al cimitero di Manopello, dove sono sepolti i genitori dell'uomo. Don Guido durante l'omelia alla sorella, dice a Ciammaichel, ai familiari, agli amici, ha detto che la giustizia aspetta ciascuno di noi andarla a trovare, ma la giustizia chiede una grande fiducia in chi è preposto a fare giustizia. Oggi l'invito, ha detto il sacerdote, è quello di affidarci alla giustizia terrena, sapendo che è senza dubbio appendice della giustizia divina. Un appello a non covare mai sentimenti di vendetta è stato rivolto da Don Guido ai presenti e a non combattere la violenza con la violenza. E intanto proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti e dei militari del reparto investigativo scientifico di Roma, che sono entrati nella casa parcheggio di Via Albanese a caccia di impronte e tracce utili a risalire a chi ha ucciso il quarantenne con un colpo alla testa sferrato probabilmente con una mazza da minigolf. Il decreto di ispezione dei luoghi, firmato dal PM Giuseppe Falasca, è stato notificato al vicino di casa Cristian De Lonardis e a Silvia Capuzzi, che abita nello stesso edificio della vittima. Entrambi indagati per omicidio volontario e RIS hanno effettuato rilievi anche nelle loro abitazioni. I due che respingono le accuse sono stati invitati a partecipare all'ispezione assistiti dai rispettivi difensori, gli avvocati Marco Femminella e Alessandra Michetti. Tracce di sangue, impronte e qualsiasi altro elemento possono essere decisivi per raccontare gli ultimi momenti di vita della vittima, morta per le conseguenze della ferita riportata nella regione occipitale della testa, come ha accertato durante l'autopsia il medico legale Cristian Dovidio. Ai militari del RIS spetta anche il compito di cercare impronte digitali sul cellulare di Ciammaichella, mentre il contenuto dello smartphone verrà analizzato dall'ingegnere informatico Alessandro Diodoro, che ieri ha ricevuto l'incarico dal PM Falasca.